Si chiama Kit come l'automobile futuristica della serie televisiva anni 80, l'operazione della squadra mobile della Questura di Arezzo, ma in questo caso i costosi accessori, navigatori ed altra strumentazione elettronica erano stati tutti rubati. In manette così è finita una banda specializzata in questo genere di furti. Le indagini erano partite nel marzo 2018 a seguito di un colpo da diverse centinaia di migliaia di euro messo a segno alla concessionaria Rossi di Arezzo. La banda in questo caso era riuscita a portare via 13 navigatori da altrettante auto di lusso. Ad incastrare i malviventi sono state proprio le impronte ritrovate dalla scientifica nella concessionaria. Partiamo proprio da una impronta trovata rinvenuta dai colleghi della Polizia Scientifica di Arezzo per arrivare a un nominativo. Senza peraltro però sapere nulla di più perché si tratta di un moldavo sprovvisto di permesso di soggiorno che però ha dei precedenti specifici. Arriviamo sostanzialmente a identificare questo soggetto anche tramite la sua fidanzata, una ragazza moldava che abita a Milano. Riusciamo dopo poco a ricostruire l'identità di tutti e tre i componenti della banda e dopo alcuni mesi riusciamo appunto a mettergli sostanzialmente le manette. Si tratta di due fratelli poco più che ventenni ed un cinquantenne, tutti e tre cittadini moldavi clandestini e con numerosi precedenti. I tre vivevano nel più completo anonimato di giorno e la notte invece mettevano a segno colpi in tutta Italia. Abbiamo ricostruito la loro responsabilità non solo rispetto a questo furto, a quello di via Calamandrei per la Rossi SRL ma anche per due furti avvenuti a Perugia, anche questi furti su diverse decine di navigatori. Un furto a Massa Carrara, un furto a Terni, parlo sempre di concessionarie e anche alcune macchine depredate sulla pubblica via ad Alessandria a inizio 2018. Le manette per i tre sono scattate all'alba del 4 luglio in provincia di Milano, adesso dovranno rispondere di furto aggravato. Sono furti che alimentano il mercato nero della componentistica elettronica su auto di questo tipo ma sono furti dai quali questo tipo di malviventi cercano di ricavare anche microchip molto potenti che utilizzano anche per clonare le carte di credito. Grazie.